Reati ambientali scattano due denunce nel Nisseno. Caltanissetta, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza su Gela. Pedi Pedi, mercoledì sera alle ore 21 su TFN, a cura di Roberto Gallà, regia di Gianluca Loguasto. Controlli a tappeto dei carabinieri in tutta la provincia nissena, con la scoperta di quattro discariche abusive tra Caltanissetta, Bonpensiere, Delia e Serra di Falco. Accertamenti che sono anche costati a due imprenditori la denuncia per l'accusa di gestione di rifiuti non autorizzata, oltre ai sequestri di diverse aree disposti dal GIP di Caltanissetta su richiesta della procura. Ad essere denunciati dai militari dell'arma, un imprenditore edile di Bonpensiere è il titolare di un'azienda di Delia. Nel primo caso, quello di Bonpensiere, i carabinieri hanno rinvenuto nella zona dove sorge l'impresa cumuli di rifiuti originati da attività di demolizione edile, ed è scattato il sequestro di un'area di circa 2.500 metri, oltre alla denuncia per l'imprenditore. Il secondo caso è interessato un imprenditore di Delia, appunto denunciato a sua volta. I carabinieri hanno sequestrato un'area di circa 1.700 metri quadrati, all'interno della quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti domestici, imballaggi e contenitori di fitofarmaci per uso agricolo-culturale. Per quanto riguarda il resto dei controlli, a Caltanissetta è stata riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata, con il rischio di danni ambientali, a Gesso Lungo, nei pressi del cimitero Angeli e a Santa Barbara. La prima discarica abusiva è stata individuata all'interno di un'area di 3.500 metri quadrati incontrata a Gesso Lungo, la seconda in un'area di 1.800 metri quadrati nelle vicinanze del cimitero Angeli. Gli investigatori in questi casi hanno trovato cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti riconducibili ad attività di demolizione edilizia e rifiuti urbani. L'ultimo controllo ha riguardato un'area di 10.000 metri quadrati di terreno adibito e discarica e ne sono stati delimitati 1.200 a Santa Barbara. Trasmesso, in questo caso, anche l'avviso al sindaco di ottemperare allo sgombero e alla pulizia dell'area. Infine, a Sera di Falco è stata delimitata un'area di circa 500 metri quadrati adiacente alla provinciale 41, sulla quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti riconducibili ad attività di demolizione edilizia e rifiuti urbani. Si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica pianificata dopo gli episodi di Gela nel pomeriggio di sabato. All'appuntamento, presieduto dal prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Gela, Fernando Asaro, il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia, Santi Roberto Condorelli, i vertici delle forze dell'ordine, il capocentro della direzione investigativa antimafia e il sindaco di Gela. Nel corso della riunione, dopo aver dato atto che sono in itinere attenti approfondimenti investigativi volti a individuare gli autori dei recenti eventi delittuosi, si legge in una nota, si è proceduto ad un'analisi congiunta e dettagliata delle misure di prevenzione a carattere generale e dell'attività di controllo sul territorio operata dalle forze dell'ordine, in esito alla quale il prefetto ha disposto un ulteriore potenziamento dei dispositivi in atto con l'intensificazione di servizi ad alto impatto. Inoltre, il prefetto di Caltanissetta ha richiamato l'attenzione del primo cittadino gelese sulla necessità di completare rapidamente l'installazione del sistema di videosorveglianza, quale indispensabile strumento di osservazione per accrescere il livello di sicurezza sul territorio. Infine, allo scopo di rafforzare le azioni di carattere preventivo sullo stesso territorio gelese, il prefetto ha invitato il sindaco ad avviare ogni utile iniziativa progettuale, volta alla diffusione della legalità, sensibilizzando la cittadinanza a collaborare con le forze dell'ordine e a segnalare situazioni sospette o l'eventuale commissione di fatti delittuosi, così da favorire la tempestività degli interventi. Sono in tutto 558 le domande ritenute ammissibili ai fini dei contributi previsti dal bando CM Vino destinato agli investimenti in cantina per la riconversione dei vigneti nell'ambito della campagna 2022-2023. Il Dipartimento dell'Agricoltura regionale ha pubblicato la graduatoria provvisoria sul portale istituzionale della Regione Sicilia. Il bando ha una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro per sostenere diverse tipologie di intervento, come operazioni di estirpazione e reimpianto, sovrennesti, realizzazione di impianti di irrigazione, meccanizzazione, modifica della forma di allevamento e sostituzione delle spalliere di sostegno. Con questa iniziativa la Regione si pone l'obiettivo di aumentare la competitività delle produzioni vitivinicole siciliane, adeguandole alle esigenze di mercato. Il sostegno ai produttori è finalizzato a finanziare, anche fino al 100%, le spese sostenute per la ristrutturazione e la riconversione delle strutture aziendali. Le domande ammesse sono in totale 558, di cui 342 provengono dalla provincia di Trapani, 88 da quella di Agrigento, 74 da Palermo, 13 da Catania, 11 da Caltanissetta, 9 da Ragusa, 6 da Siracusa, 3 da Messina, mentre 12 aziende ammesse a finanziamento hanno i vigneti in più province. Un territorio nisseno che ha le sue criticità in ambito sanitario e per affrontarle per valorizzare il territorio stesso facendo squadra. Con questo scopo si è svolto a Caltanissetta giovedì scorso nella sede dell'Ordine dei Medici, Chirurgi e Odontoiatri di Caltanissetta l'incontro con i deputati regionali della provincia nissena eletti lo scorso 25 settembre. Io ritengo che la sinergia tra la classe politica e i tecnici che vengono rappresentati dall'Ordine dei Medici in quale istituzione, che ne rappresenta 2.200 iscritti e direi anche di ampliare la platea a tutti gli operatori sanitari, questa sinergia non faccia altro che del bene a quello che può essere lo sviluppo della nostra sanità e quindi delle risposte che il nostro territorio può dare ai propri concittadini. Tra gli argomenti trattati, la sanità di prossimità, soluzioni e risposte per i cittadini, che siano pazienti, medici e operatori sanitari e le risorse del PNR con le relative opportunità. Così Giuseppe Catania, Michele Mancuso e Noccio Di Paola hanno accolto l'invito nella sala di via Enrico Media e hanno incontrato il presidente nisseno dell'OMCEO, Giovanni di Polito e il Consiglio Direttivo. Oggi è stata una grande e bella occasione per cominciare un percorso di sinergia tra la politica e chi sul territorio vive appunto la sanità quotidiana. Noi abbiamo tutto l'interesse a fare squadra e soprattutto a affrontare le tante problematiche che non possono non diventare oggetto di interlocuzione col nuovo presidente della regione, col prossimo assessore alla salute. In quanto rappresentante del territorio è chiaro che io ho tutto l'interesse a tutelare la sanità di questa provincia, sia quell'ospedaliere che quella territoriale su cui bisogna investire in maniera decisa e ferma. Il nostro territorio in questo momento ha una forte carenza di buona sanità nonostante l'impegno di tantissimi medici che lavorano in condizioni veramente difficili. Allora noi abbiamo una proposta che presenteremo all'Assemblea regionale siciliana che è quella di creare un'unica azienda regionale siciliana o comunque di cambiare i paradigmi delle aziende sanitarie provinciali. Da parte mia ci sarà la massima disponibilità a fare squadra e soprattutto a mettermi accanto agli operatori per ascoltarli giorno per giorno e capire dove poter incidere e dove poter finalmente migliorare la sanità all'interno della nostra provincia. L'offerta sanitaria, la qualità dell'offerta sanitaria provinciale è certamente un tema che non può avere divisioni di colore politico, ovviamente può avere visioni diverse, questo sta nell'ordine delle cose. Ci siamo trovati d'accordo su alcuni aspetti. Uno è l'esigenza di provvedere al reclutamento di nuovi operatori sanitari, soprattutto di nuovi medici specialisti, provvedere al potenziamento e alla stabilizzazione del personale sanitario attualmente in carico presso la nostra ASP e soprattutto rivedere il modello organizzativo. Sono tanti gli appuntamenti a Canicattì a partire dal prossimo 29 ottobre il ricordo del giudice Rosario Livatino, elevato a Beato da Papa Francesco il 9 maggio dello scorso anno. Gli estimatori del Beato Livatino parteciperanno in maniera privata alle funzioni religiose già previste in città. In coincidenza della solennità liturgica del 29 ottobre invece, l'Associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino garantirà l'apertura della cappella Livatino Corbo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. L'apertura della stessa cappella, dove riposano le spoglie del Beato Livatino, sarà ripetuta anche nelle giornate di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti rispettando gli stessi orari. Lunedì 31 ottobre, vigila di tutti i Santi, l'Associazione parteciperà alle 21 nella chiesa San Domenico alla veglia di preghiera. Mentre martedì 1 novembre alle 18.30 ci sarà l'omaggio Canoro Facciamoci Santi, realizzato dai giovani della parrocchia San Francesco di Canicattì. L'Associazione, intanto, parteciperà venerdì 28 ottobre alle 19 al corteo contro la microcriminalità in città, promosso dal movimento giovanile di Innoviamo Canicattì, in collaborazione con l'associazionismo locale. L'attività dell'associazione, infine, proseguirà anche con la presentazione in giro per la Sicilia dell'ultimo libro di Roberto Mistretta. Rosario Livatino, l'uomo, il giudice e il credente, è con le altre attività istituzionali sempre rivolta a diffondere la conoscenza della figura del Beato Livatino e dei valori di giustizia e carità. Molto partecipato l'evento Cuore in Forma, dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare, realizzata a Vallelunga Pratameno lo scorso sabato pomeriggio. L'evento, organizzato dalla Fondazione Nissena Vita e Salute, che vede responsabile l'infermiere del soccorso di Caltanissetta in Zagro con il patrocinio dell'amministrazione comunale, è stato arricchito dagli interventi dei dottori Calogero Geraci, dirigente medico di cardiologia dell'ospedale di Caltanissetta, Roberta Sardo, dirigente medico rianimatore della centrale operativa di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, direttore generale della centrale operativa Bacino-Caltanissetta e Enne da Grigendo, ed Ignazio Lacagnina, responsabile della formazione Croce Rossa sezione di Mussomeli. Questo è servito a sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Una prevenzione efficace ha bisogno di informazioni corrette. L'obiettivo dell'incontro è stato duplice. Da un lato sono stati analizzati i cosiddetti fattori di rischio, che mettono a repentaglio la salute del cuore, assunzione di alcol e droghe e fumo, ma anche stile di vita sedentario. Dall'altro, in che modo si può intervenire per salvaguardarla? Le buone abitudini possono infatti incidere positivamente sui fattori di rischio. Mercoledì sera alle 21 su TFN, 30 minuti pedipedia a cura di Roberto Gallà con la regia di Gianluca Luguasto. Luoghi, storie, personaggi di Caltanissetta in primo piano, di cui vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedipedi, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Pedipedi. È il programma che vi fa conoscere i luoghi, le storie e i personaggi della nostra città. Per questa edizione però non sarò da solo. Alla camera numero uno abbiamo Gianluca, ecco, e alla camera, insomma camera, la cameretta, diciamo, due. Ecco io che cercherò di fare qualche ripresa, diciamo così, live action. Dove vi portiamo oggi? Allora, un attimino perché ci aspetta sicuramente perché ho detto che stavamo per arrivare. Vediamo, vediamo, vediamo chi è. Ce l'abbiamo fatta, ciao, ciao. Allora, Lorenzo, ciullalo, allora intanto tiè, sistemati il microfono. Qua siamo... Non mi aiutare, non è che tu sei professionista. E va bene, dai, il microfono si mette così. Allora, tu tieni questo che inquadri a Gianluca. Ecco, nel frattempo fai anche un po' da operatore. Beh, come vedete noi siamo molto, siamo molto, molto casalinghi, ecco. Siamo, siamo per la spontaneità. Ok, non basta perché se lo puoi. Lo metto qua. Va bene. Benissimo. Allora, Lorenzo, ciullo, dove siamo? Allora, siamo nel quartiere Angeli di Caltanissetta, che è, diciamo, là. Stare pedi pedi in siciliano vuol dire essere sempre in giro ed è proprio questo il titolo della trasmissione di Roberto Gallà che già dalla prima edizione ha conquistato il pubblico e lo ha fatto incuriosire ed appassionare di puntata in puntata. Ha tutti quei racconti frutto delle interviste in auto fatte durante un giro per Caltanissetta, così l'auto diventa un salotto in cui a cam accesa gli ospiti si raccontano senza filtri. Continua il virtuoso percorso tracciato nelle prime due giornate di campionato dall'Albaverde Caltanissetta. Contro il pedale, infatti, la squadra nissena, nella terza giornata di andata del girone M di Serie B2 Vole Femminile, ha conquistato una netta vittoria per 3-0 lasciando alle avversarie solo 42 punti. Nella splendida cornice del Palacanizzaro, Spene e compagne non si sono concesse licenze, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. È stato vano il tentativo ospite nella parte iniziale del terzo set di opporsi ai costanti attacchi delle padrone di casa. Un match di totale dominio in cui si sottolinea la prova di Alessandria Angilletta, top scorer della gara e per la prima volta in stagione in doppia cifra, seguita sul piano delle realizzazioni da Jennifer e D'Antoni, per cui la doppia cifra in questa prima fase del torneo è una dolce costante. Il servizio del pedale ha raramente messo in difficoltà la ricezione dell'Albaverde, con ottime percentuali di risposta della stessa Angilletta, di una reattiva a Ferrarini e del libero Tilaro in continua crescita di rendimento. Ordinare amministrazione invece per Noemi Spena, mentre il duo Angilletta d'Antoni ha tutelato ancora una volta Nicole Ferrarini, per consentirle di recuperare al meglio dall'infortunio che si trascina dalla scorsa stagione. Da sottolineare infine l'esordio della nissena Marta Zaffuto, premiata per il grande impegno mostrato durante gli allenamenti. Niente campo invece per Millia Pruti, bloccata per un fastidioso torcicollo e per Eleonora Porrovecchio, non entrata in campo a causa della conclusione anzitempo del match. Ora si attendono test più probanti per misurare l'effettivo valore della formazione della presidentessa Oriana Mannella, a partire da sabato prossimo, quando l'Albaverde si recherà a Gioiosa Ionica per affrontare l'imbattuta Sensation che la segue in classifica a solo una lunghezza di distanza. Questi intanto i risultati della terza giornata del campionato di Serie B2 volle femminile Girone M. Gioiosa Ionica Fidel Storretta 3-2, Zafferane Ricina 3-0, Ardenz Comiso Stefanese 3-0, Albaverde Caltanissetta Planet 3-0, Cus Catania Alus 3-0, Crotone Regione Reggio Calabria 3-0, Valle Saracena 3-0. Per una classifica che vede l'Albaverde prima in classifica con 9 punti, seguita dalla Gioiosa Ionica 8, Zafferane, Crotone e Fiestorretta 7, Cus Catania 6, Vallei 5, Saracena Comiso e Ricina e Stefanese 3, Regione Reggio Calabria 2, chiudono a 0 punti Planet e Alus. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente alta sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, ancora una volta soffieranno correnti da sud, quindi clima particolarmente mite, temperature ben oltre le medie del periodo, però il nord Italia avrà ancora un minimo di variabilità, lo capiamo dalla previsione della nuvolosità, con appunto dei sistemi nuvolosi che ancora in parte interessano il nord Italia, specie le regioni di nord-est, qualche velatura anche nell'Italia centrale, ma lì senza conseguenze. Come precipitazioni vi segnalo qualche goccia di pioggia sull'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana e poi nelle estreme regioni nord-orientali, però fenomeni non particolarmente diffusi e intensi. Quindi in definitiva ci attende un martedì all'insieme del bel tempo al centro-sud, con qualche nuvola in più, magari sull'Alto Tireno, diciamo qualche goccia di pioggia tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana. Per il resto, ripeto, al centro-sud, ampie zone di sereno e temperature molto molto miti. Anche al nord tornano delle schiarite a cominciare da ovest, ma sulle regioni di nord-est insisterà ancora qualche nuvola con qualche piovasco, specie in Friuli, Venezia Giulia. Per tutti i tagli, comunque sulle vostre località, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.